Ehi, tu che stai guardando questo video, non fare proprio il pesce secco della situazione Diventa anche tu un super squalo, andando nel negozio oggetti, supporto a un creatore, hyper legit, scritto tutto maiuscolo, tutto minuscolo o uguale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno, vi lascio al video, buona visione Sfida segreta, dovete andare direttamente dietro al faro di loghi ragazzi, quindi qui circa Dobbiamo costruire una specie di capannella che ci dà 25.000 di esperienza, quindi buona Perché come me deve arrivare ancora a livello 100, è ottima Cos'è questa? Eh sì, dai 300 di pietro, ok, parliamo della pietra Ok, diamogli la pietra, ok sfida fatta, 25.000 di esperienza, easy Ok